Questo non è guerra già, questo è terrorismo. Questa mattina ho ricevuto due delegazioni, una degli israeliani che hanno parenti come ostaggi in Gaza e un'altra dei palestinesi che hanno dei parenti prigionieri in Israele. Loro soffrono tanto e ho sentito come soffrono ambe due. Le guerre fanno con questo, ma qui siamo andati oltre le guerre. Questo non è guerra già, questo è terrorismo. Per favore andiamo avanti per la pace. Pregate per la pace, pregate tanto per la pace. Che il Signore metta a mano lì, che il Signore ci aiuti a risolvere i problemi e non andare avanti con le passioni che alla fine uccidono tutti. Preghiamo per il popolo palestinesi, preghiamo per il popolo israeliano, perché venga la pace. A tutti la mia benedizione. Grazie. 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 Grazie.